Allora, io da tanti anni seguo la politica estera che è sempre la scenerentola nel dibattito nazionale, poi è quella che fa cadere i governi, attenzione, l'episodio Petrocelli ne è un esempio, vedi, c'è l'intera commissione esteri che la pensa in un modo e già solo per questo lui si dovrebbe dimettere, ma in realtà lui ha dietro un problema vero politico che riguarda il suo partito e il suo movimento, che è la cosa di cui noi dovremmo anche tener conto nel dibattito Davide, perché in realtà da sinistra a destra, come accennava prima Fontana, il sentimento antibutiniano in Italia è debole e questo è un dibattito da fare veramente, ma a parte questo, venendo alle sanzioni, le sanzioni sono sanzioni che in parte salvano noi stessi e anche la Russia, perché come hai appena detto tu, il gas si continua a comprare e allora il resto è vero che le navi sono importanti, ma noi ci troviamo in una situazione tale di interdipendenza, la globalizzazione o come preferisco dire io, la rinuncia dell'Occidente europeo a fare certe scelte, ci troviamo in una tale situazione di interdipendenza che le sanzioni, prima di colpire un paese abituato all'austerità vera, qual è la Russia, che non è Mosca e San Pietroburgo come noi crediamo, il centro di due grandi città, ma è un territorio sterminato in cui a vivere poveri sono abituati, quelle sanzioni colpiscono più noi. Allora io voglio dire una sola cosa, sono stata in questi giorni così accusata di aver detto che bisogna imporre la no fly zone, io ho detto un'altra cosa e così rispondo anche alla tua domanda, io ho detto che nel momento in cui è necessario andare a sedersi o obbligare a far sedere qualcuno a un tavolo di trattative tu devi essere nelle condizioni di esercitare la maggior pressione possibile, che può essere un'ammissione saltando tutti i problemi compresi quelli di libertà di espressione attuale dell'Ucraina, che poteva essere la forzatura della Nato prima della guerra, che poteva essere andare tutti insieme a Mosca a dire alto là, ma ora poteva anche essere un dire guarda che noi di mettere la no fly zone, se possiamo lo evitiamo, non ne abbiamo paura, perché se scateni una guerra nucleare muori anche tu. Allora questi esempi estremi che vado facendo sono per dire che io non vedo in questo momento per le condizioni obiettive in cui ci troviamo una Europa e anche un Occidente e anche un Biden in grado di sfidare sul serio e domani vedremo se mi sbaglio la scelta che ha fatto Putin, che è una scelta che se va bene si limita e lo vedremo se conquista Mariupol, credo che ci siamo, a riprendersi tutto l'accesso al mare. Se va male, se va male, continua, prosegue e la Polonia fa bene finalmente a essersi svegliata. Noi non lo so. Assolutamente da 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 monitorare perché